Ceglie Messapica è una bellissima cittadina proprio nel cuore della Puglia e qui facciamo corsi di formazione per giovani chef. Chi vuole intraprendere questa carriera, una carriera faticosa e lunga, viene a Ceglie Messapica e fa queste nove settimane insieme a noi, insieme a tutta la MedCooking School, per poter apprendere le tecniche di base della cucina italiana, dove quindi si comincia dalle cose proprio basilari, quindi l'ortaggio, la verdura, fino ad arrivare poi a disostare le carni, a pulire i pesci e tutto quanto. Quindi è un corso che ti dà nelle mani proprio un mestiere. Quindi dopo aver fatto questo corso, tu hai il mestiere nelle mani e puoi girare il mondo. Un rapporto molto stretto di collaborazione con Alma? Sì, sicuramente perché io vengo da una formazione Alma, dove c'è rispetto per le materie prime, la puntualità, il rigore in cucina. Quindi questo mi ha portato poi ad avere questa bellissima collaborazione con Alma di Colorno. Quindi a Ceglie Messapica si fanno i corsi proprio Alma. C'è un'età di base per entrare in un'età oltre la quale non si può andare per accedere ai vostri corsi? Sì, l'età minima è 18 anni, l'età massima è 40, però io sono dell'avviso che adesso i quarantenni sono molto motivati, quindi io sposterei un po' più avanti questa età, almeno fino ai 45 anni. Prossimo corso? Il prossimo corso è il 25 di settembre, è tutto pieno. Poi per gli altri ci vedremo sicuramente a gennaio. Grazie a tutti.